Si avvicina un appuntamento importante a Salea per il volontariato. Di che cosa si tratta? Ricordiamo le date, il luogo e tutte le cose principali. Buongiorno a tutti. La manifestazione che noi stiamo organizzando come Cooperativa Macchiaverde è una manifestazione interamente dedicata al mondo del volontariato. Quindi tutte le associazioni, ONUS, ASD, qualsiasi associazione che fonda il proprio principio sul volontariato. Saranno tre giorni, il 10, l'11 e il 12 giugno. Principalmente alla sera. Il sabato ci sarà un allungamento nel primo pomeriggio perché ci sarà una gara di mountain bike di categoria giovanissime. La domenica addirittura partiremo dalla mattina perché ci sarà una camminata alla scoperta di Salea. Dove lo vogliamo ricordare bene? Presso la storica sede della Sagra del Pigato, quindi nell'area della rassegna della festa del pigato che normalmente si tiene ad agosto.